Si avvicina la bella stagione e gli alberghi del lungomare pesarese si preparano riaprendo ai turisti o temporeggiando per migliorare le loro strutture. In queste settimane sono una decina gli alberghi alle prese con ponteggi esterni o ristrutturazioni interne che puntano ad accrescere la propria qualità, riconosciuta ad esempio anche dal passaggio da 3 a 4 stelle come nei casi dell'Hotel Clipper e dell'Imperial Sport. Investimenti sulla qualità che però chiedono il sostegno della politica regionale. È un momento, è un periodo in cui stiamo ripartendo, è primavera quindi la nuova stagione sta partendo, gli alberghi si stanno rinnovando, abbiamo circa una decina di hotel che in vari modi stanno rinnovando le proprie strutture anche in maniera molto importante e molto pesante quindi con grandi investimenti. Pesaro ovviamente si prepara all'evento del prossimo anno, Pesaro 24 e quindi siamo tutti molto focalizzati su cogliere questo obiettivo che vuol dire per noi anche aumentare la qualità. Su questo quello che chiediamo è di poter ripristinare un vecchio bando della regione ormai del 2017 per avere qualche contributo in più da parte della regione considerando anche il fatto che il governatore si era speso proprio su questo ambito alla BID Milano dicendo che alcuni fondi potevano essere anche utilizzati sugli alberghi. Dal vecchio bando del 2017 rifinanziato nel 2020 su circa 300 progetti ne vennero finanziati 150. Solo nella provincia di Pesaro le richieste furono un'ottantina. L'APA chiede dunque che si riparta da lì, dai progetti in graduatoria e dai nuovi stanziamenti per chi vuole investire nei propri hotel dando giovamento all'immagine e all'attrattiva della meta turistica. Se vogliamo cogliere un turismo internazionale e quindi puntare come da indicazione da direttive della regione, del comune ad attrarre turismo da altri paesi dobbiamo aumentare la qualità delle nostre strutture e dobbiamo avere ormai una qualità internazionale per i servizi che vengono richiesti.